Parliamo adesso di una rassegna molto amata a Piacenza che è arrivata già alla sesta edizione, sta per partire, partirà esattamente a novembre, la rassegna di teatro, clown e circo contemporaneo, rido, sogno e volo. Ne parliamo con Allegra Spernanzoni di Manicomics, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, quali sono le particolarità di questa sesta edizione? Dunque, innanzitutto appunto partiamo l'8 di novembre con Claudia Penoni che è una amatissima attrice, comica, sicuramente qualcuno si ricorda la bellissima coppia polacca di Zelig e finiamo l'8 di maggio. Quindi, diciamo, questo numero che ci porta da una parte all'altra degli anni ci sembra indicativo. Alla fine abbiamo anche lì un gruppo comico, gli eccentrici da Darò, con una nuova produzione. Quindi la nuova produzione che debutta non è la sola, altra grande artista della nostra terra, Golden Dindin. Anche lei debutterà la nostra rassegna con una nuova produzione da un titolo molto particolare, Dio e femmina. Quindi tutto quanto da scoprire. E poi passiamo attraverso il volo, che è il circo contemporaneo, che è rappresentato egregiamente dalla compagnia El Grito, che già abbiamo fatto venire qui a Piacenza e ha incantato il Farnese. E poi il circo contemporaneo ancora con una compagnia giovanissima, molto molto interessante, che è la compagnia Cialibares, che oltre al circo contemporaneo porta il connubio con la musica. Ancora di musica si parla con un altro artista delle nostre terre, che è Maurizio Sesenna, con le sue canzoni stonate, che sarà con noi a marzo. E poi c'è tutto quanto invece il teatro per le famiglie. I titoli sono tanti, abbiamo sentito in questa rassegna, abbracciano più mondi. È un po' questo l'obiettivo di questa edizione? Esatto, sì. Il fatto di mettere insieme il teatro comico più legato alla comicità, al clown, la musica e il circo contemporaneo. Questo qui è un po' sempre l'obiettivo tra rido, sogno e volo. Il sogno è rappresentato dallo sguardo del clown, che anche porta in scena il teatro adatto a tutti quanti. Infatti tutti quanti gli spettacoli, anche quelli serali, sono adatti a tutta quanta la famiglia, nel senso che hanno proprio le caratteristiche della leggerezza. Fantasia e immaginazione è questa bellissima strada che ci prende fin da giovani. I giovani sono la nostra fantasia e loro sono il mondo che ci aspetta e che riesce ancora veramente a sognare. Viva questi spettacoli. È vero, è vero. Viva questi spettacoli, viva la fantasia, l'immaginazione e tutto quello che naturalmente si ritroverà anche in questa rassegna. Poi sul nostro quotidiano online piacenza24.com potrete consultare tutto il programma data dopo data. Io ringrazio Allegra Spernanzoni di Manicomis per essere stata con noi. Buona giornata e buon proseguimento. Buona giornata, grazie a voi e arrivederci.